eccoci qua cari telespettatori il ladro di ricordi l'ho intitolata così questa trasmissione anche se non parleremo soltanto di chi ruba i ricordi di tante persone soprattutto delle più anziane una memoria che purtroppo è fonte della nostra vita del nostro benessere della nostra qualità di vita che può essere intaccata da diverse patologie parleremo anche dell'alzheimer perché ce l'avete richiesto lo faremo con i nostri ospiti ve li presento subito professor diego de leo ben ritornato qui con noi grazie psichiatra della griffith university ma anche psichiatra da noi operativo grazie di essere qui professor marco trabucchi ben ritornato anche a lei professore presidente dell'associazione italiana di psico geriatria grazie per luigi dal santo primario di geriatria treviso dipartimento di medicina generale anche usl 5 polesana grazie anche a lei ben arrivato professor massimo calabro ben ritornato qui in studio geriatra di primario all'ospedale di treviso dirigente medico ma primario ospedale di treviso grazie anche a lei allora parliamo della degenerazione della mente soprattutto le persone anziane ci sono tantissimi anziani un numero sempre più importante cominciare con lei professore e cosa vuol dire invecchiare domandone si è impossibile rispondere però invecchiare vuol dire sistemarsi su altri livelli di funzione mentale di funzione psichica di funzione fisica ricordando sempre però che invecchiare non è una malattia questo dobbiamo avere la forza di dirlo e riaffermarlo e sempre più le conoscenze vanno avanti e sempre più è vero può non essere una malattia può non essere una malattia non è necessariamente una malattia lo sappiamo bene per esempio per quanto riguarda la cognitività il ladro di ricordi come lei l'ha chiamato giustamente noi sappiamo che il 10 per cento degli ultra 65 anni può avere una demenza e anche l'alzheimer gli altri 90 no ecco lo dico il 10 per cento perché consola molte persone perché ormai c'è una specie di psicosi una volta non si parlava mai di alzheimer c'era paura adesso invece si parla tanto e sta diventando una psicosi collettiva in chi invecchia 10 per cento 10 contro 90 contro 90 è un dato importante perché poi quando capita è drammatico difficile da gestire da curare però 10 su 100 questo dobbiamo tenercelo bene in testa perché tra l'altro se uno invecchia bene non fa non fa notizia se uno invecchia male famiglia nella comunità degli amici eccetera fa una terribile notizia e infatti parleremo anche dei familiari perché sono un altro aspetto molto di chi sta vicino chi supporta questo perché rischia a sua volta di ammalarsi in modo diverso ma lo stesso l'associazione di cui lei presidente di che cosa si occupa riunisce medici neurologi psichiatri geriatri e psicologi si occupa tutte le malattie del dell'anziano che durante le terze la quarta età a partire da quelle della mente a quelle del cervello e i riflessi che le malattie somatiche hanno sul comportamento per esempio il diabete è una delle classiche malattie che noi studiamo per le conseguenze che provoca a livello del nostro cervello del rischio per esempio di demenza ma anche i comportamenti cioè la persona affetta da un diabete è costretta a terapie particolari a effetti collaterali ai rischi dell'iperglicemia o dell'ipoglicemia e quindi le conseguenze che queste situazioni particolari hanno sul funzionamento normale sulla vita sulla qualità della vita ci sono numeri significativi in questo le persone si calcola che il diabete abbia un ruolo poi già sono conti sempre un po un po non certissimi ma un ruolo attorno al 15 per cento nel nel rischio di indurre di indurre demenza di alzheimer questo non è molto conosciuto questo fatto sono dati meno noti anche perché sono recenti sono molto recenti ma c'è una componente ereditaria anche in questo perché la paura di molti è se io ho avuto mio nonno mia mamma mio padre che hanno avuto che o soffrono tuttora di questi problemi poi vedremo conoscerli dobbiamo avere forza interrompo proprio perché mi piace dire no la componente ereditaria è dell'uno uno e mezzo per cento così bassa sì il resto può essere determinato dalla genetica cioè uno nasce ma non perché lo eredita dai progetti dai dai suoi vecchi dagli genitori dai nonni dagli zii perché è avvenuta questa mutazione nella nostra struttura genetica che facilita la comparsa della malattia poi comparsa che viene anche modulata dagli stili di vita ed ecco quel ruolo degli stili vita di cui dopo parleremo che diventa molto importante professor de leo lei tra l'altro in collaborazione proprio con il professor trabucchi ha scritto sta per uscire insomma un libro molto interessante che è il prodromo poi di quello di cui stiamo raccontando quindi queste malattie della mente che colpiscono gli anziani di che cosa si tratta si tratta di questo questa ricerca insomma scusi una ricerca che ha fatto no per la verità abbiamo concretizzato forse anni un po di esperienza anni di vita vissuta clinicamente tra i libri e tra i nostri colleghi ricercatori per venire a capo di questo fenomeno così ampio così doloroso e in fondo anche così evitabile se vogliamo che si chiama solitudine quindi stiamo per uscire a giorni con un libro a quattro mani con il professor trabucchi che si chiama in modo un po provocatorio maledetta solitudine ed ecco la solitudine della solitudine che che non è il vivere da soli che non è neanche il vivere in isolamento fisico e che non è ovviamente neanche la ricerca della solitudine è invece il sentirsi soli e quindi tutto quello che comporta il soffrire per questa condizione di essere inconosciuti di essere a parte di non sentirsi di appartenere a niente di sentirsi peggio anche tagliati fuori insomma e questa condizione ha delle conseguenze alcune delle quali sul piano psicologico sono note da tempo tipo l'ansia la depressione l'isolamento sociale il ritiro altre sono balzate invece all'attenzione medica più recentemente e hanno indotto a reazioni anche molto importanti il governo inglese per esempio un anno fa ha istituito un ministero per combattere la solitudine ci ha fatto seguito il governo australiano insomma molti paesi si sono mobilitati per tastare il polso della propria nazione istituendo dei rapporti nazionali sullo stato della nazione riguardo a questo aspetto aspetto che vengo alla sua domanda che è rilevante anche come precursore o come associato di demenza abbiamo studi longitudinali che da tempo ci hanno fatto rilevare come i dementi abbiano molto più frequentemente una storia di solitudine alle spalle e che la mortalità poi delle persone diventi aumentata proporzionalmente in persone che si sentono sole che sono poco connessi non elettronicamente ma che non hanno relazioni reali con le altre persone e poi normalmente l'anziano solo è un dato di fatto c'è un 70% della popolazione anziana che vive sola o che si sente sola insomma perché puoi anche essere inseriti in un contesto di famiglia però se non interagisci non ti senti in relazione con i componenti sei solo sostanzialmente sì poi si accompagnano a questo vissuti molto penosi di essere invisibili socialmente di non avere significato di non avere un ruolo di non essere in nessun modo apprezzati e tantomeno amati e quindi queste situazioni queste sensazioni o queste percezioni indipendenza di quale ne sia la causa sono veramente molto dolorose e di conseguenza sono energie negative che poi finiscono per avere un impatto anche sulla nostra salute fisica quindi ci fanno del male ed è di questo che si occupa anche questo volume scritto assieme al professor Trabuchi perfetto poi torniamo ancora sulla solitudine come dovrebbe essere vissuta come ovviare professore chiedo a lei normalmente voi riscontrate perché voi siete operativi sul campo queste degenerazioni mentali poi ci racconterete anche quali possono essere con l'avvento di che periodo della vita cioè c'è un passaggio stigmatizzato io glielo chiedo perché tanti riscontrano che con l'andare in pensione cioè con il venire meno di impegni costanti di sentirsi quello che diceva integrati in un contesto che piaccia o che non piaccia sociale di un certo tipo e quindi contare in qualche modo comporta a volte dei traumi e di fatto molte persone hanno subito questo trauma certamente la mancanza o l'improvvisa interruzione del ruolo sociale ha una significa poi nel decorso del soggetto un maggior rischio di andare incontro a eventi di solitudine e questo ovviamente avrà delle ripercussioni anche sullo stato di salute ma non è tanto l'evento pensionamento di per sé è l'inserimento del soggetto nel tessuto sociale che determina poi l'esito più o meno felice nel senso che se c'è alle spalle un vissuto importante di coesione di inserimento in attività alternative alla semplice attività lavorativa il far parte di associazioni di volontariato avere interessi che sono al di là di quelli banalmente lavorativi crea le condizioni perché l'atterraggio su una nuova fase della vita sia il più morbido possibile indubbiamente noi siamo determinati dal ruolo sociale e il ruolo sociale è per la stragrande maggioranza dei casi per 40 anni oltre della nostra attività determinato dal ruolo lavorativo questo è un dato di fatto sarebbe ozioso negarlo e inutile il problema è cercare di trovare delle alternative culturali associative sociali per fare in modo che si crei tutta una situazione che ci permetta di avere anche interessi al di là del semplice atto lavorativo e questo è un consiglio medico questo è un consiglio medico per quanto riguarda la mia attività devo dire che spesso il momento del pensionamento non è vissuto come un momento estremamente traumatico se c'è alle spalle ovviamente una organizzazione sociale che consenta di uscire da questo cortocircuito andando avanti con il tempo elementi particolarmente importanti sono quelli ovviamente delle età molto avanzate dopo gli 85 anni oltre il 40% dei soggetti possono andare incontro a un deterioramento cognitivo che quando incrocia anche un problema funzionale cioè il paziente non ha più la capacità di assolvere le normali funzioni della propria vita quotidiana ecco che allora in quel momento scatta la definizione di demenza per cui c'è tutto un problema di riorganizzazione dei servizi e di riorganizzazione del tessuto sociale che deve circondare il paziente, il soggetto, l'anziano e assestare i propri interventi quindi ci sono due elementi importanti il pensionamento che comunque va vissuto non come un trauma e l'età molto avanzata, i grandi anziani, i grandi vecchi che sono tantissimi che sono tanti se mi consente poi volevo fare anche una precisazione e dare anche una nota di ottimismo nel senso che se noi andiamo a vedere le prevalenze relative del problema demenza o deterioramento cognitivo misurate oggi e le confrontiamo con quelle di 10-15 anni fa vediamo che nella popolazione generale ci sono meno dementi rispetto a 10 anni fa vuol dire che quegli interventi di cui parlava prima il professor Trabucchi e il professor De Leo che sono la cura del diabete la cura dell'ipertensione la lotta alla sordità tanto per dirne una è bravissimo che hai tirato fuori anche questo tema, è vero? sono hanno nel tempo con una consapevolezza di cui adesso siamo veramente portatori indotto una diminuzione del numero della prevalenza cioè del numero di soggetti dementi in una determinata fascia d'età è chiaro che se quella fascia d'età è molto più rappresentata e questa è una grande fortuna il numero assoluto aumenta assolutamente professore ma allora anche a lei chiede la stessa cosa chi è l'anziano? e quando si può adesso alla luce di un modo di vivere anche diverso bisogna stare attenti perché si incomincia a invecchiare ci può essere il 70enne che non è vecchio perché lo vedi è iperattivo magari ancora lavora ma quando è che... il catofanagrafico sostanzialmente non esiste poi ci si deve dare... bello sto termine ci si deve dare un termine si dice sopra i 75 anni probabilmente nel tempo questo dato salirà ancora chiaramente il concetto di invecchiamento comprende il fatto che un organismo, un fisico non riesce più a reagire e a compensare le possibili perdite indotte da un evento malattia anche banale con la stessa facilità con cui lo riusciva a compensare da molto più giovane ed è per questo che una patologia come la demenza che ha un'evoluzione comunque in molti anni è un'evoluzione che è coerredo di condizioni cliniche che poi insolvono comunque nel tempo nel senso che la broncopolmonite viene anche al paziente non affetto da demenza ma se quel paziente è affetto da demenza la broncopolmonite può prendere un altro significato e prende un altro significato non solo nell'evoluzione clinica del paziente ma anche teoricamente nella presa in carico da parte degli specialisti che curano quel paziente quindi il concetto di invecchiamento non è tanto un dato 70 anni perché come ripeto se a un settantenne gli dici che vecchio giustamente ha una reazione ma è legato soprattutto come diceva il professor Trebucchi a una condizione cognitiva a una condizione di stato funzionale quindi di completa o meno autosufficienza nelle attività di base della vita quotidiana o anche nelle attività un po' più raffinate della vita quotidiana e restando nell'ambito della solitudine è chiaro che il paziente tra virgolette isolato non per scelta ma perché è successo è un paziente che è più esposto a una serie di eventi negativi che si correlano poi anche con l'invecchiamento assolutamente qui ci colleghiamo appunto al discorso della solitudine allora torniamo su questi temi andiamo ancora più nello specifico delle patologie che possono coinvolgere la mente ma anche la vita di tutti i giorni delle persone dopo la pubblicità tra poco che sono di chiudere grazie a tutti i giorni